Roberto Aiello, un altro dei grandi padronisti di un Real che con 13 vittorie consecutive sta cercando di battere un po' tutti i record, cosa vuol dire questa vittoria a Villa Santina? Innanzitutto vuol dire che ci siamo, siamo lì con la testa, abbiamo avuto una serie di infortuni che ci hanno dato un po' fastidio proprio come metterci in campo, ci mancavano gente importanti tipo Marvin, Matiz, il gran che si è infortunato, sanno che aveva un impegno per sciare se siamo qua vuol dire che ci siamo con la squadra. Ma non eravate certo partiti per vincere, molti dicevano una squadra da metà classifica invece? Invece con l'impegno, seguendo Ade, che ci sta dando, è lui il nostro dodicesimo uomo insieme al pubblico che ci aiuta, è lui il nostro dodicesimo uomo allenandoci sempre, stando lì sul pezzo stiamo facendo un gran campionato. Domanda inevitabile, il Real vince lo scudetto? Possiamo toccarci? Tanto non si vede. No, speriamo, vediamo partita dopo partita.